Giovani chiamati a riflettere sui luoghi di sofferenza e di speranza incontrati nel proprio quotidiano e questo il filo conduttore del concorso fotografico Io sono con voi, indetto dalle parrocchie di Sant'Agata, Santa Maria di Nives, San Pietro, San Domenico di Sulmona. Un'altra iniziativa che apre la parrocchia alla città dopo quella del corso di spagnolo, che, come anticipato da Onda Tg, prenderà il via il prossimo 21 febbraio nella chiesa di San Filippo Neri. L'iniziativa invita a meditare, attraverso fotografie, le 14 stazioni della via Crucis. La partecipazione è gratuita e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie pubblicandole attraverso la pagina Facebook Sant'Agata San Filippo Neri 2.0 oppure l'indirizzo e-mail parrocchiasantagata-sulmona-gmail.com Sono ammessi scatti personali, fotografie inedite o significative raccolte sul web che raccontino fatti sensibili di cronaca nazionale e internazionale. Ogni fotografia dovrà essere corredata da due indicazioni. La stazione della via Crucis di riferimento e una breve spiegazione del suo significato. Le fotografie potranno essere pubblicate entro lunedì 14 marzo 2018. Quelle che riceveranno più like saranno stampate e utilizzate per identificare la stazione di riferimento in occasione della via Crucis dei Giovani il giorno 18 marzo 2018 nella città di Sulmona. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook Sant'Agata San Filippo Neri 2.0. Grazie. 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 Grazie.